Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, tra l'altro registrato alle 11.14 giovedì 27 agosto Non so se uscirà prima questo o quell'altro, però questo video lo sto registrando dopo il video di Sottil Quindi se Sottil non sarà arrivato, sappiate che io ho registrato inutilmente un video Allora, fatemi andare a cercare perché io sinceramente non lo conosco, perdonatemi ma non lo conosco Quindi non posso parlare del giocatore o cose simili, vado a vedere quelle più o meno che sono state le statistiche Ma è tutto questo, di chi stiamo a parlare? C'è ragione pure voi, anche se l'avrete letto dal titolo Stiamo parlando di Gabriele Zappa, un giovane scuola inter, se non ricordo male Che è passato due anni fa al Pescara, credo No, un anno e mezzo fa Stiamo parlando di un terzino destro di ruolo E a me già sta cosa che è un terzino destro di ruolo mi sconvolge Nel senso, seriamente non vogliono più puntare su un adattato a destra Cioè, si sta rivoltando il mondo perché Mi farà strano non vedere Farago sulla testa, devo essere sincero Ma vabbè, scherzi a parte È un giovane Perché c'ha? Quanto? C'ha vent'anni È un pischelletto Che però a me sinceramente preoccupa per il fatto che comunque non Non abbia fatto granché a livello di serie A Di esperienza Sì, ha fatto il campionato primavera con l'Inter Ha fatto la serie B con il Pescara E per essere un terzino comunque andiamo a vedere La stagione 19-20 Ha fatto anche bene da quello che ho visto Allora, non ha giocato tutte le partite di serie B Perché non le ha giocate Ha giocato soltanto 23 partite Ha giocato le due partite dei play-out però E ha giocato una partita in Coppa Italia Però nelle partite di serie B comunque Non ha fatto male perché essendo un terzino sinistro Anche se qui c'è un dato interessante Un terzino destro, scusate Ha segnato 5 gol e ha fatto un assist Che è una cosa un po' inusuale per un terzino Cioè, tecnicamente dovrebbero essere molto più alti gli assist dei gol Però lui ha questa statistica strana E vi spiego anche perché Perché da quello che mi dice Transfer Market Sui ruoli giocati Lui non giocava quasi mai Da terzino destro Nel senso Ha giocato 14 volte come esterno destro di centro campo Infatti qui mi segna 14 partite giocate D'esterno destro 4 gol e 1 assist Ok Poi 11 partite Giocate da terzino destro Con un gol E poi una partita addirittura giocata Come alla destra Praticamente se stiamo a prendere Florenzi Tarocco Perché sostanzialmente è quello Io adesso non so che caratteristiche fisiche abbia Vedo che è alto 1,87 Parecchio Veramente parecchio Per un terzino Cioè, ci avremo lì con Giannis 2 Non so come si è messo a velocità Dove essere sincero Non lo conosco quindi non posso parlare Io vi racconto solo quelli che sono i dati Davanti ai miei occhi E cerco di trarre delle conclusioni Però Più di questo io sinceramente non posso fare Voglio vedere sommariamente Più o meno quante partite abbia giocata Da esterno e quante da terzino Per capire Più o meno 75 partite da terzino destro 18 partite da esterno destro 4 da difensore centrale 3 da terzino sinistro addirittura E 2 da alla destra Quindi Allora A me mi fanno pensare Che questo Zappa sia comunque un giocatore abbastanza offensivo Perché Spostarlo Da terzino Che dovrebbe essere il suo ruolo naturale A esterno e centrocampo E poi ad alla Significa che questo giocatore Comunque ha una predisposizione offensiva Di tutto rispetto Oppure Non so con quale modulo giocasse il Pescara Potrebbe anche essere un esterno a tutta fascia Però l'esterno a tutta fascia O di Francesco Cozza tantissimo Cozza veramente tantissimo Non saprei Non saprei Sono Sono molto curioso Tra l'altro fatemi andare a vedere se Gioca a piedi invertiti o meno No Non gioco a piedi invertiti Perché è destro Ok Non lo so Staremo a vedere Sono Sono curioso Non Non mi abbatto subito Perché non è un grande nome O cose simili Però sono curioso Rivederlo sul campo Prima di Di poterlo giudicare Perché è così che va fatto Niente ragazzi Il video finisce qui Fatemi sapere qua sotto nei commenti Cosa ne pensate E detto questo No ci becchiamo In un prossimo video Bella